buongiorno sono giorgio consulente renault di gruppo carmeli oggi ti presento nuovo captur intense plugin hybrid itec 160 cavalli crossover di segmento b con tecnologia phev è un veicolo ibrido dotato di batteria di dimensioni importanti per percorrere decine di chilometri in modalità a zero emissioni captur plugin mantiene le dimensioni originali e la stessa abitabilità 4.27 metri di lunghezza per 1.79 metri di larghezza e con un'altezza di 1.57 metri nuovo captur plugin presenta un motore a benzina da 1.6 litri di cilindrata accoppiato da un motore elettrico per una potenza cosiddetta di sistema di 160 cavalli totali la vettura in oggetto presenta cerchi in lega da 17 climatizzatore automatico navigatore easy link da 9.3 sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera comandi al volante limitatore di velocità cruise control troviamo inoltre fari full led con la classica firma c-shape sia anteriormente che posteriormente se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiama cello 0 30 77 24 0 11 i nostri consulenti saranno a tua disposizione grazie a tutti